Una seduta solenne del Parlamento portoghese con il capo dello Stato, Marcelo Rebello de Sousa, ha ricordato la rivoluzione dei garofani di 42 anni fa che pose fine alla dittatura di Caetano, erede di Salazar. Presenti anche i capitani di aprile, protagonisti del colpo di Stato del 74, che per quattro anni avevano boicottato le cerimonie per protesta contro l'austerity del governo precedente.